non va bene così? eh sì però a me con la porta aperta piace di più benvenuto e iniziamo bene benvenuti in questo nuovo video sua della spesa mia madre è messa con la mano così tipo per dire aiuto pesa, acqua e sapone e gisa io balbetto, mi sa che domani piove iniziamo da acqua e sapone per un prezzo totale di 40 euro e 53 centesimi fammi salutare il pubblico buongiorno a tutti e appunto mamma avvicinati sei lontana dovresti guardare l'espressione mia madre quella non si vuole fare riprendere assolutamente no mi hanno conosciuto perché? la mia voce è migliore del mio corpo ma dai ma finisci tre andiamo cominciamo allora iniziamo da un'offerta che appena l'abbiamo vista io e mia madre ci siamo subito agguantati mamma non c'è bisogno di accordi perché questo prezzo lo sappiamo allora questo è vicinet quello che appunto si mette nel vc che è in pandanne pure con la mia maglia sta bene vero mamma? c'è la versione celeste sì ora lo facciamo vedere e questa è colla rosa ah io l'ho presa con celeste mia madre l'ha presa due con la rossa 99 centesimi ne ha presi due ma devi sapere posso dire posso contraddirti addirittura siamo arrivati al prezzo stracciato di 95 centesimi addirittura eh sì per cui lo guardavo con attenzione non è 99 ma ce l'ho scritto 99 no no ci credo 95 centesimi ma sai perché ci stupiamo perché da Gisa il prezzo 2 euro e 20 una cosa del genere carissimo invece noi ce lo siamo agguantati da questa buona sto prezzo e le novità infatti no la fanno vedere in tv passiamo oltre Fairy Platinum Plus sono ottime quelle per la lavastoviglie e per il prezzo di 3 euro e 25 ah mamma di una cosa importantissima che cosa si è cosa cosa è una cosa importante per il canale che ci devo assolutamente vedere e ascoltare ci stanno guardando si e iscriversi poi dopo che ci guardano certo no subito l'iscrizione subito è immediata dopo sei di Platinum ti ricordiamo di iscriverti attivando la campanellina tutte così ti arrivano le famosissime notifiche se no i miei video si perdono nei meandri di YouTube capisci e non ci arrivano le notifiche mia madre dice che cosa sta dicendo capisce il nostro pubblico devo capire anche io visto che ti sto cercando di aiutare in questo modo questa gliel'ho consigliata io a mia madre che cercavo una crema anti-rughe siccome i provenzali è un'ottima marca come già ti ho detto in passato e gli ho consigliato questa che è una crema viso anti-rughe biologica all'Argan è veramente fantastica anti-rughe rassutante c'era anche la versione notte però era troppo ricca secondo me andava ad ingrassare la pelle si presenta? beh non così anzi ora la apro e vediamo quello prossimo neutro, un profumo neutro che dona idratazione ed elasticità alla pelle e aiuta a combattere i segni dell'invecchiamento grazie alla presenza di olio d'Argan, acido ialuronico e acido ialuronico vegetale collagene vegetale ed estratti d'alga rossa con uso continuativo questa crema attrena la visibilità delle rughe e conferisce la viso un aspetto più rossolato, navigato e luminoso 8,90€ è un po' cara, però rispetto alle altre creme che c'erano da acqua e sapone sinceramente con l'inci che hanno io preferisco consigliarle a mia madre questa però diciamo che non ho proprio tantissime rughe è giusto una prevenzione nooo eccomi qua quindi non è che ne ho proprio tantissime eh scusa grazie Irene poi cambierò a girare gira la ruota e basta così volevo dire che non sono proprio così tanto piena di rughe mia madre e giovanile ecco basta ma hai ereditato i geni pure a me e anche mio padre buoni geni va bene siamo modelli allora di questi fresh and clean a me mi sono sempre piaciuti lo sfoglio guarda che bello questo qua è praticamente sapone idratante con gel da aloe 96% di ingredienti di origine naturale alla fragola e ciliegia guarda che bellissimo packaging invece questo qui è ipoallergenico pelle sensibile con acqua micellare ottimo anche questo però avrà una buona profumazione ora faccio una cosa buono buono buonissimo per chi ama i frutti rossi è proprio l'ideale fantastico un buon pezzo 95 centesimi anche questo tutte e due perfetto poi antica erboristeria lo shampoo alla lavanda che mia madre ormai compra da tantissimo tempo e con cui si trova bene 1 euro e 50 se vorrai ti faccio il video su Erex in the wonderland di come faccio la tinta a mia madre si prossimamente prossimamente su questi schermi su quelli schermi anzi ho già provato l'altra colorazione sempre di questa marca comunque è ottima ed il numero è il 600 come vedi l'oral pari casting creme gloss e non brucia di solito il cuoio capellino no assolutamente molto morbido e con un colore proprio naturale eh quanto è che costa? 7,50 ma di solito questo costa 9 era... poi feeling lavanda l'ammorbidente 1 euro mazza avrei potuto anche prendere di 2 litri poi tempo 1 euro e 59 il Dixon questo è adatto per i multicolor tecnologia pulito profondo questo costa un po 2 euro e 50 mazza questo fanno la pubblicità con i cavalli quello con i cavalli ma quello è verde sì bagno a schiuma pino silvestre crema di latte classico sentiamo come eh non è male mi piace ma 1 euro e 45 centesimi feeling il detersivo per i piatti profumo di aceto che non si trova anche questo eccolo è disperso ci sono 80 centesimi in omaggio hanno dato sia a me che a mia madre queste clip guarda che carine che sono e sono clip della fortuna perché rappresentano un quadrifoglio che carino infatti c'è anche una coccinella qui e questo serve appunto per chiudere per esempio i biscotti è utile ma cosa è utile invece di usare il ciappino la maletta ecco usiamo questa che è in pandan ora me la metto qua per tutto il resto del video ah sì così porta fortuna nola lilla no anzi no tadan ora me lo metto qua nei capelli no no ti tira i capelli questo lo dici? sì sì no ti dico di sì attenta che ti tira poi con la tinta esatto hanno moggiato con il cerchietto guarda che bello il disegno della ragazza eh sì molto belli io non avevo così tu lo usi mamma forse sì o forse no non lo so devo vedere lo puoi tu? lo metti? beh non sta male mi piace i tuoi capelli lumini a posto sentivo la roccia sì poi c'è da dire che anche la ragazza mi somiglia e c'è la coda come me è una bella ragazza bello mi piace ti sei auto omaggiata materiale belluto eh questo qui bello mi mancava un cerchietto così nero poi il tappeto con i punti l'altra volta abbiamo preso gli asciugamani per me questo è il tappeto appunto per mia madre tappeto bagno ah qui va bene di quello che ho detto ah sì? eh non lo uso no? perché? vorrei fare un bagno un po' diverso da quello che c'è quando si fa il bagno in un modo vero? beh a tempo sì vorrei farlo in un altro modo quindi ci mettiamo che tappetino non possiamo parlare non possiamo parlare sembra un asciugamani ma no è comodo aiuto soft che c'è scritto la lavanda mamma la lavanda multipolder ottima solubilità bianchi splendenti attivi antimacchi efficacia 40 gradi 100 più 5 lavaggi maxi convenza di tutto perfetto sì ed è il prezzo veramente ottimo di 4,99 euro quanto c'è dentro hai detto? ce n'è ce n'è in che senso? di quantità? e vediamo di qua oh e non lo vedo qua non affambrota no di là forse 6,300 kg hai visto? quasi 6,5 kg pesa si è vecchisto pesa un botto si ho voglia che è conveniente ma? molto ma 4,5 euro mazza da Sisa mia madre ha dato il meglio che sa come sempre per il resto con 86 euro e 10 centesimi esatto uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa si parlava prima di cosmetica eccetera eccetera è di cura della persona Garnier Skin Active intanto che io perdo tempo mia madre cerca visto? PUR Active 3 in 1 carbone antipunti neri questo è un detergente scrub e maschera ho controllato l'inci ed è buono mia madre l'ha comprato per mia sorella carbone vegetale più estratto di mirtillo e acido salicilico purifica opacizza e rimuove i punti neri visto tre usi dimmi mamma quanto costa 5 e 75 è un pochino caro però calcolando che fa tre cose tre usi hai un unico prodotto e tre utilizzi quindi è fantastico poi ti dirò comunque come si trova mia sorella c'è da dire che mio padre è partito per questo amaro e in questo senso dopo aver pranzato o cenato un bicchiere proprio di quelli piccoli 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 da amaro ci piace concludere con questo tipo di amaro ed è tedesco si sente anche la diversità degli altri tipi di amari non so se l'hai mai trovato scrivimelo nel tuo commento 10 l'ho preso per questo motivo e 99 era in offerta sì perché di solito costa 14 c'è sempre 14 in mezzo ma non è questo costa molto come tipo di amaro costa il più caro di tutte e quando c'è questo tipo di offerta si prende al volo poi polpa bella star 1 euro e 89 marmellata di albicocche 1 euro e 99 della santa rosa o rio casanova alcol più sapone rimuove germi batteri funghi con azione super igienizzante da igienizzante se detergente multiuso per superficie dura sanitaria i cuscini e pavimenti 1,45 daygum instant le ciumgum perfetto ecco queste costano tantissimo non ho capito perché le ho preso solo per oggi 3,99 non le prenderò mai più seppure spannato lo schermo no è diventato nero poi frutta secca a gogo mandorle e noci sgusciate fonti di acidi grassi buoni 99 centesimi io stavo guardando ma mia madre giustamente mi fa notare che scrive ovvio no poi milk benessere sistema immunitario che come benessere mia madre si beve ogni pomeriggio no no ogni mattina certo questa è la cosa non lo prende di pomeriggio no no questo è per la colazione c'è la stessa immunitaria c'è la divisione perché di pomeriggio che prende lo yogurt no neanche la sera lo yogurt la confanza poi quant'alte ne ha preso i due sacchi tre tre sacchi due euro e ventinove sacchetti domo pack già lo ne ha presi due 99 centesimi carta igienica cordicarte te l'ho fatta vedere molto spesso nei video su della spesa 1 euro e 62 riso gallo quello per visotti e questo purtroppo costa come james bond no quello è james bond ma questo è esatto no blonde questo costa 2,99 poi abbiamo voluto provare questi assorbenti linee spiuma e questo previene il rischio di irritazione ce n'è 8 99 centesimi ne ha preso quello in persona azzurro e verde esatto praticamente quelli della l'ines non li fanno più come una volta non fanno più gli assorbenti di una volta perché praticamente l'adesivo non si incolla la mutanda dobbiamo dirlo tutto questo trash mettiamo con i tornetti qualcosa che non si vede mai 2,49 euro tovaglioli 79 centesimi ne ho più di due tocchi biscotti misura senza latte e uova 2,59 centesimi l'aglio 99 centesimi ma cosa hai fatto e si che lo scantino è lungo sei accelerato sempre visto riuscendo a farcela oggi non so come mai poi c'erano il cioccolato fondente le uova ed il burro che purtroppo non ti posso fare vedere perché ho fatto la torta quella morbida al cioccolato buonissima super golosa di cui trovi la ricetta sul canale se ti interessa continuando il pesto questo qui è adatto anche per le persone intolleranti al latte e al lattosio perché devi sapere che nel pesto ci mettono anche se non c'entra niente il latte stranamente invece dei pinoli ci hanno messo le mandorle come primo ingrediente troviamo l'olio di semi di girasole perché devi stare attente perché molti contengono l'olio di palma basilico mandorle sale aglio e pepe 1 euro e 45 però dico fare il pesto a casa è una scemenza alla fin fine è solamente di frullare il basilico e pinoli olio ed aglio l'aglio se si vuole facoltativo perché per esempio io non lo digerisco però in questo non si sente devo dire l'aglio e c'è e c'è io ho il problema che non lo digerisco invece con questo prezzemolo che non si trova in questo periodo perché non ho dovuto comprare sul gelato 1 euro e 29 come non si trova? si trova? chiedo non riesco a trovare bastoncini questi si sa sono buoni perché non hanno ingredienti schifosi come sempre io controllo ed hanno filetti di merluzzo farina di grano tenero olio di semi di girasole acqua amido di patate sale lievito di birra e spezie questi sono gli ingredienti di questi 2 e 29 ce ne sono all'interno 12 idem per i filetti di platessa frost anche questi non hanno ingredienti schifosi come l'olio di colza che molti congelati e sorgelati hanno e anche l'olio di palma quindi attenzione guardate perché bisogna girare per guardare e qua ci sono filetti di platessa 50 per cento pan grattato olio di semi di girasole acqua farina di frumento e sale 4 e 99 poi i piselli 2 euro e 69 gli spinaci questi sono della valle degli orti 2 e 49 il gelato poi questo non l'ho mai visto sinceramente forse non l'ho vita san montana 5 stelle cioccolato gelato bigusto cioccolato al latte cioccolato fondente decorato con scaglietti di cioccolato 6 coni l'avevo visti e in mezzo al centro non sui bordi 3 euro e 79 benissimo e abbiamo concluso speriamo tanto come sempre di averti tenuto campagna se è così condividi su tutti i tuoi social mi raccomando ascoltateci e ascoltatela e devo fare pubblicità e poi c'è il quadrifoglio porta fortuna speriamo che porti fortuna in tutto e va bene noi vi salutiamo tanti saluti a tutti ecco mandi e vi mandiamo un grandissimo bacio ciao 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 ciao